musica ben tornati a tutti un appuntamento con Faxbox oggi torniamo di nuovo a parlare del mondo delle colonne sonore l'abbiamo già fatto in precedenza una puntata dedicata al colonne sonore film western ma oggi ci dedichiamo soprattutto all'opera di un singolo autore che è uno dei più prolifici che fa parte di quella scuola di autori di colonne sonore italiane che ha fatto veramente appunto scuola un po' in tutto il mondo e parliamo infatti di Piero Miliani un uomo che ha inciso non so quanti ma veramente non so quanti dischi nastri di colonne sonore di sonorizzazioni nonché di dischi jazz veri e propri allora il nostro carissimo Piero Miliani inizia la carriera appunto suonando il jazz pubblicando anche i primi dischi jazz in Italia tra i più rinomati dell'epoca fino a che uno di questi dischi non finisce mai di Mario Monicelli che lo mette subito al lavoro a fare la colonna sonora dei famosissimi film con Gassman e Totò dei solidi ignoti e l'audace colpo dei solidi ignoti siamo alla fine degli anni siamo ai primi anni 60 cavallo degli anni 50 degli anni 60 e diciamo che le sue colonne sonore jazz furono un po' una novità almeno in Italia scusate ma con la mascherina faccio un po' fatica a respirare furono un po' una novità in Italia è detto proprio quell'incedere brillante a diciamo quell'atmosfera che troviamo nei film del double record che inizia il boom economico in Italia parleremo più approfonditamente nell'ambito di questa puntata di Piero Migliani ma cominciamo subito ad ascoltare qualcosa è tratta dal film Smog del 1962 ci ascoltiamo questa bella California in the Summer che tra qui alle trombe troviamo anche Chad Becker il famoso jet sister con cui Migliani collaborò spesso all'inizio e ci dà subito un'idea di queste atmosfere brillanti delle legali del dopoguerra eccola qua California in the Summer Piero Migliani 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 Piero spectare Grazie a tutti. 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 Sangili kompiti monicelli e tutti. Tutti grandi registi. Grandi compositori. Quanto cinema veniva prodotto? Quanta musica? Io penso che questi compositori hai messo attivabili a mettere insieme all'exame questa quantità di materiale a degree in altri tempi. Adesso la gente era anche più costosa fare le Ок 촉unte sonore perché erano suonate con l'orchestra e con la band musicisti pagati. adesso magari si prende più spesso un produttore che magari ha il computer da solo magari con qualche semplice sopraincisione di qualche turnista, magari se la sfanga una volta sentivo Morricone che si lamentava del fatto che tutti usassero ormai i sintetizzatori diciamo lui è stato tra parentesi anche un grande pioniere dei sintetizzatori lo stesso Morricone ma Umiliani e tutta insomma la compagnia io penso che quando ho usato quella frase intendesse dire che se voi fate caso molte colonne sonore gli anni 90 soprattutto molto spesso ci sanno questi pad di tastiere che fanno un po' l'atmosfera cioè chi ne capisce di composizione e registrazione si rende conto che sono fatte un po' economicamente magari si ottengono il risultato di avere quelle creare l'atmosfera che serve al film sul momento ma è tutta un'altra cosa da scrivere pagine e pagine spartite e farle suonare a un sacco di musicisti comunque andiamo avanti è una selezione che vi ho fatto tra le milioni che si potrebbero fare su un catalogo di Piero Umiliani e ho scelto un pezzo tratto da siamo nel 69 dal film La morte bussa due volte è un frammento riferito a Bob and Ellen sentiamocelo a Bob and Ellen Grazie a tutti. 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 E siamo nel 1971. Già da un po' di anni. Piero Miliani si è affacciato anche al mondo dell'elettronica. Con i primi esperimenti. Con i primi synth compatti. Lui fu uno dei primi possessori di un Synthi AKS. fu un famoso sintetizzatore che usava di Pink Floyd. Franco Battiato e altri. Cominciò a sperimentare con quello e poi con il Moog. Per fare cose molto interessanti. Per sentire uno dei suoi esperimenti più pazzi. Ci sono andato a pescare una colanda sonora fatta. Assurdo pensare l'accostamento. Per un documentario che si chiama Il mondo dei Romani. L'antica Roma. Da il quale lui ha prodotto una colanda sonora totalmente elettronica. totalmente astratta. È veramente assurdo. Ci andiamo a sentire. Siamo nel 1972. Questa Delenda Cartago. Preparatevi perché è veramente strana. Eccola qua. Questa del труд. Questa del tempo. Questa del movimento acae. Questa del movimento acae. Forma di Penn. Questa del movimento acaeカunzi. Grazie a tutti. 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 Comunque, torniamo a un'altra colonna sonora più canonica, che è quella di una sorta di thriller, così chiamiamolo erotico, sempre si chiama Il Corpo, che è del 1972-1973. E ci ascoltiamo questo tema molto incalzante, che si chiama Art Times. Grazie a tutti. 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 molti western, ma ha un po' sorvolato anche volutamente, forse ne ha fatti un po' meno di altri suoi contemporanei, però ne ha fatti comunque, è un po' sorvolato anche perché abbiamo dedicato una puntata appositamente per il genere western, però una ve l'ho inserita perché questo brano mi piace veramente un sacco, come monta un po' l'emozione del brano appunto, è un frammento trattato alla valanda sonata di un western del 74, chiamato Dieci bianchi uccisi da un piccolo indiano e questo brano appunto si chiama La Vendetta, sentiamocelo. La Vendetta 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 ripetuta ossessivamente, trasposta, armonizzata, fatta con altri strumenti, ma sono quella figura ritmica di tre note, quando tu hai un'idea e sviluppi questa idea in maniera veramente dinamica, questo è il bello, veramente una lezione musica questo brano. Dunque andiamo avanti, siamo per finire il tempo ma siamo verso la scadenza, c'è un altro brano fantastico tratto dal film Il fidanzamento con Leo Buzanca del 1975 e c'è il tema principale che è fatto col Moog, è un brano molto volange appunto, band come gli Air sicuramente hanno sentito questa roba, se la sono mangiata a pranzo e a cena veramente, perché si sente un po' dei loro dischi, parlo del duo francese che fa elettronico e riprende molto dell'atmosfera volange del cinema italiano, sentiamo ora perché è veramente carina, Il fidanzamento. Il fidanzamento Il fidanzamento Il fidanzamento Il fidanzamento Il fidanzamento Il fidanzamento Questo è il fidanzamento, sempre qui con Piero Umigliani. Tra un'antesi vi ricordo che per tutte le informazioni, veramente ce ne sono tante, fatte, organizzate bene, c'è il sito www.umigliani.com, non vi sbagliate, è un sito dalla grafica molto old school, però in realtà è pieno di, trovate veramente tutto su di lui, sia a livello biografico, discografico, c'è anche la pagina ufficiale su Facebook che dovrebbe essere un po' d'ufficiale, seguita insomma, penso dalla famiglia, comunque da chi detiene l'eredità artistica di Pietro Miliani, che è morto nel 2002 mi pare, nei primi anni 2000. Comunque, sentiamoci un altro brano, questo è molto dinamico, carino, nel 1975, tratto alla donna sonata, dovrebbe essere anche questo, di un documentario su viaggi intorno al mondo, qualcosa del genere, si intitola Bon Voyage, questo documentario, il brano si intitola Business is Business, è carino perché ha questi fiati, insomma, che veramente fanno cose interessanti, Business is Business. Buongiorno 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.